23 giugno 2021 il giorno perfetto per parlare di vita già era in programma visto il calendario liturgico e ne parleremo ma subito urge la buona notizia perché è stato ritrovato il piccolo nicola tanturli sicuramente ricorderete questa storia che ci ha tenuto col fiato sospeso per quasi 48 ore dalla notte tra lunedì e martedì il bimbo di soli 21 mesi che abita con la sua famiglia in una località in aperta a campagna in mezzo ai boschi e nell'alto mugello campanare è stato ritrovato e ritrovato vivo proprio per questo parliamo ancora di vita tra l'altro complimenti a un collega giuseppe de tommaso anche perché la fortuna oltre evidentemente alla sua voglia di lavorare da inviato davvero sul campo gli ha permesso di individuare che era finito in una scarpata ma appunto è stato immediatamente salvato dai carabinieri che per primi lo hanno abbracciato e lo sapete ormai ne avevamo parlato a proposito del terribile anniversario di vermicino sono passati 40 anni sono cambiate tante cose anche per cercare le persone scomparse la tecnologia ha portato un altro mondo letteralmente però eravamo ugualmente tutti con il magone come si dice in perché forse qualcuno neppure più sperava noi sì e allora è una giornata in cui questa buona notizia ci apre appunto a una puntata piena di vita piena anche di appuntamenti al santuario san pio dove c'è per noi anna maria salvemini ben trovata maria pia mi senti certo eccomi qua allora ben trovata a te ben trovati a tutti hai dato proprio una bella notizia noi eravamo già qui da un po di tempo in chiesa san pio quindi non abbiamo avuto modo di carpire questa notizia subito ma grazie a te quindi ci associamo anche alla gioia della famiglia del piccolo nicola allora noi siamo pronti oggi avrò il piacere di avere con me mariana lops finalmente abbiamo cominciato a giugno con queste dirette non mi era mai capitato e quindi parleremo di una giornata tipo del pellegrino qui a san giovanni rotondo penso faccia piacere a tanti che magari stanno decidendo che faccio che cosa non faccio partiamo non partiamo andiamo in gruppo andiamo semplicemente così con tutta la famiglia quindi pochi componenti però ci sono delle dritte che dobbiamo scoprire insieme a lei qui sono 32 33 gradi fa molto caldo percepiti a dire il vero quasi 50 per quanto sentiamo caldo però insomma camminando all'ombra bevendo tanta acqua sono i consigli che si danno di solito in tv in questo periodo caldo soprattutto per gli anziani si può affrontare anche un bel pellegrinaggio in una zona fresca come questa a te maria pia più tardi grazie anna maria io per fortuna mi proteggo qui in studio dal caldo attraverso il condizionatore ma buon lavoro davvero anche con questa voglia in più di superare ogni difficoltà che del resto tu sei bravissima a superare in ogni caso ma adesso andiamo subito al santo del giorno perché vi dicevo è perfetto per parlare di vita perché san giuseppe cafasso uno dei santi cosiddetti sociali del piemonte dell'ottocento è stato un apostolo non solo che ha pensato agli altri ha educato san giovanni bosco ma è stato anche il santo che andava in carcere nelle carceri durissime dell'ottocento non solo torinese del resto e quindi questa sua storia è caratterizzata proprio dall'ascolto e dalla capacità con grande tenerezza di distribuire le parole del vangelo anche evidentemente agli analfabeti e è stato anche calcolato quante volte ha accompagnato all'ultimo momento qui sulla scena di questo mondo i condannati a morte ben 57 lui morì il 23 giugno per questo oggi e lo ricordiamo nel calendario liturgico del 1860 aveva quasi 50 anni una vita interamente dedicata al signore consumata per il prossimo e vi rimando anche al sito causesanti.va per conoscere di più questa figura e tante altre ma soprattutto noi oggi e attraverso questo spunto questo gancio vogliamo anche ritornare a parlare di battaglia contro la pena di morte la comunità di sant'egidio mario marazziti di cui ho qui uno dei libri più belli tra l'altro per me anche perché c'è una dedica personale che si chiama da caino al califato verso un mondo senza pena di morte dunque con marazziti abbiamo parlato tante volte e di questo argomento e l'ha fatto anche maria antonia guardate subito questo stralcio di una sua bellissima intervista lei aveva otto anni otto anni si è bambini che cosa come si misurò in quel momento con quella enormità io non io non capivo ma capivo che era una cosa che si chiedeva tutta poi cadeva c'era tutto fumo perché avevo letto che cadeva una pasticca dentro un catino d'acqua e tutto quel fumo ammazzava e non si respirava più non capivo bene ma mi sembrava un orrore poi quando diventai giornalista capito un tema che era proprio sulla pena di morte e feci il tema sulla pena di morte quando diventai anche giornalista professionista rischiai di essere bocciato perché non consultai le fonti le agenzie che distribuivano nell'esame e mi dissero che volevano bocciarmi perché non avevo usato le fonti in realtà io scrissi quello che volevo scrivere perché andava bene non se la sentirono di bocciarmi anche se bocciarono i due terzi dei candidati e quindi c'è una strana storia che si incrocia con la pena di morte finché non entriamo con la comunità dentro al braccio della morte di livingstone in texas per cercare di fermare l'esecuzione di dominic green un ragazzo afroamericano di 18 anni che neanche aveva sparato comunque era una tipica storia di di ragazzi un nero e tre ragazzi bianchi che avevano rubato 30 dollari nella colluttazione una persona rimane uccisa poveretta e i tre bianchi vengono in realtà scaggionati uno completamente scaggionato due ottengono una pena di minore perché accusano il fesso del gruppo diciamo quindi hanno uno sconto di pena perché accusino quello sbagliato e questa diventa la battaglia della comunità di sant'egidio per salvare la vita di dominic che diventa in carcere un uomo straordinario e che a quel punto fa scoprire la disumanità e quanta umanità c'è nel braccio della morte da lì parte la campagna internazionale della comunità di sant'egidio e sì le città per la vita infatti la data è del 30 novembre il 10 ottobre invece è la data universale contro la pena di morte e per citare anche l'ultimo appello lo trovate sul sito appunto sant'egidio.org pensate possiamo fermare anche noi un'esecuzione per prevista il 30 giugno l'appello è urgente per john hammel speriamo speriamo che il boia si fermi così come è accaduto tante volte grazie a dio sempre di più e adesso invece noi siamo già di nuovo pronti alla vita a conoscere la vita che si prepara in senso naturalmente spirituale liturgico e religioso ma anche la storia sempre più profonda di quello che attraverso voi la vostra curiosità la vostra voglia di conoscere meglio san pio dovremmo essere già pronti ma invece ho dimenticato un aspetto ecco scusate ritorno dunque alla scaletta il vostro contributo è anche attraverso le fotografie io voglio ringraziare subito la famiglia di natasha azzori perché ci ha voluto ricordare che nel settembre scorso si veniva comunque pellegrini a san pio sia pure al termine di un'estate molto anomala ecco qui vedete si veniva san giovanni rotondo si veniva a pietrelcina anche noi abbiamo preso un camper e siamo venuti nei luoghi di padre pio soprattutto mio figlio pablo ecco l'abbiamo visto con uno dei nostri frati qui di san giovanni rotondo fra fedele conte aveva questo desiderio che è stato esaudito grazie dunque a tutti voi per questa testimonianza e adesso passiamo direttamente di nuovo alla chiesa san pio dove per noi c'è anna maria grazie anna grazie a te maria grazie a te allora noi abbiamo un punto di riferimento nelle nostre dirette dell'ufficio accoglienza pellegrini con me oggi come vi avevo già anticipato c'è marianna lops ben trovata marianna grazie anna maria ben trovata a te e a tutti i fedeli che ci seguono attraverso padre pio tv chi viene a san giovanni rotondo come pellegrino magari è passato dall'ufficio pellegrinaggi ha trovato il suo volto ovviamente quello di carlos che noi conosciamo bene e sono in grado preparatissimi per dare tutte le informazioni a pellegrini gruppi organizzati ma anche a chi arriva così qui all'improvviso senza preparazione senza organizzazione magari si dice si vuol dire turisti fai da te ci saranno anche i pellegrini fai da te sicuramente come si organizza una giornata tipo per loro allora anna maria il compito principale dell'ufficio pellegrinaggi è proprio quello di accogliere i pellegrini nei luoghi di san pio siano essi gruppi organizzati quindi con delle richieste specifiche o dei singoli ovviamente i singoli solitamente ci contattano prima o attraverso l'indirizzo email info chiocciola santuariopadrepio.it oppure telefonicamente allo 0882 417 500 la domanda più frequente sono proprio gli orari di apertura perché ovviamente il pellegrino che giunge qui a san giovanni l'ortondo ha tutto l'interesse a visitare dapprima il santo quindi san pio e ci tengo a sottolineare che la cripta dove si trova adesso padre pio quindi nella chiesa inferiore di san pio è aperta tutti i giorni orario continuato dalle 7 alle 19 non è necessaria alcun tipo di prenotazione e l'ingresso è appunto libero e gratuito questa è proprio la domanda ricorrente ci chiamano in tantissimi proprio per informarsi se ci sono delle prenotazioni da effettuare ed è ottima anche come informazione in questa diretta perché poi tanti sono i pellegrini che ci seguono i devoti di padre pio allora dicevi ci sono quelli che chiamano ovviamente che passano anche perché l'ufficio è proprio all'ingresso del sagrato della chiesa nuova di san pio e tanti diciamo che il popolo dei pellegrini un popolo vario pinto è diverso magari qualcuno viene qui per caricarsi spiritualmente qualcuno viene qui per ovviamente per pregare sulla tomba di padre pio qualcun altro è attratto dall'architettura dall'arte tu che stai qui da diversi anni come li trovi i pellegrini sono cambiati dagli inizi beh i pellegrini di san pio come hai anticipato tu sono diversi e ognuno è alla ricerca di qualcosa c'è chi è ovviamente ha bisogno di padre pio per ritrovare se stesso in qualche modo per per avvicinarsi maggiormente alla fede poi la nuova chiesa ovviamente ha dato un impulso diverso anche per quello che riguarda l'architettura quindi quello che ha offerto una chiesa possiamo dire del tutto innovativa che richiama anche tantissimi amanti dell'arte la parte storica ovviamente è quella alla quale sono legati i più anziani per cui il ricordo nel loro cuore parte dalla chiesa antica per poi spostarsi nel santuario santa maria delle grazie nella vecchia cripta la visita alla cella dove padre pio ovviamente riceveva e confessava anche gli uomini e poi il coro dove è custodito il crocifisso dinanzi al quale ricevette le stimmate questa parte antica è facilmente visitabile per il pellegrino perché possiamo dire che un percorso obbligato un po più complicato diventa per loro visitare la nuova chiesa perché gli spazi ovviamente sono completamente diversi anche quello che si va a visitare è comunque innovativo come è stato già detto nonostante la chiesa sia già stata inaugurata da diverso tempo e per cui è necessario rivolgersi all'ufficio pellegrinaggi per lo meno per avere le informazioni di base prendere una mappa per potersi orientare in questi spazi così grandi poi al sabato solitamente momento di maggior affluenza l'ufficio ha istituito una una visita guidata alle ore 16 per cui anche i singoli pellegrini che si trovano qui di passaggio possono aggregarsi e partecipare quindi conoscere meglio questi luoghi e non perdersi nulla ecco perché questo poi il rischio no di perdersi qualcosa c'è tempo anche in una giornata sola di visitare tutto quindi anche di sostare in preghiera soprattutto quello poi il motivo principale e organizzandosi insomma si può fare tutto poi ovviamente ci si può spostare anche nei nei luoghi qui vicini a proposito di Pietrelcina Mariana qual è il legame il rapporto a livello di pellegrinaggi ovviamente Pietrelcina rappresenta il punto iniziale nella storia di San Pio la città natale di Padre Pio e mi piace sono due città gemellate Pietrelcina e San Giovanni Rotondo mi piace ricordare come padre Alberto d'Apolito ricordò Pietrelcina come la Betlemme che vide nascere Padre Pio mentre San Giovanni Rotondo la Gerusalemme che lo vide crocifisso quindi qui l'opera di Dio insomma si è compiuta in San Pio quindi c'è un legame forte a Pietrelcina e giusto andarci considerate che non dista tantissimo da San Giovanni Rotondo meno di due ore e potete visitare la città natale di la casa di San Pio Piana Romana dove avevano i possedimenti, i forgioni e quindi dove è custodito l'olmo dinanzi al quale Padre Pio ricevette per la prima volta le stimmate invisibili e le chiese ovviamente è un legame forte, è un legame inscindibile proprio perché Padre Pio fa parte della storia di Pietrelcina quanto quella di San Giovanni Rotondo Che belle queste notizie anche perché come si fa quando si decide di viaggiare ci si prepara, si guarda la cartina, si guarda la temperatura, cosa bisogna portare quali sono i luoghi di interesse e noi lo stiamo facendo in video in questa maniera facendoci accompagnare da Marianna e poi alternandosi anche con Carlos Maria Pia tu hai qualche domanda perché noi siamo pronti per... Sì, una molto sintetica, volevo sapere i pellegrini sono abbastanza precisi, hanno con sé le mascherine o gliele dovete distribuire? Giusto, chiede Maria Pia giustamente, se i pellegrini arrivano qui preparati, sono ordinati anche a livello di mascherine, ci sono queste precauzioni che dobbiamo ancora portare? Sì, sicuramente sono preparati, sono ordinati con le mascherine, rispettano le distanze di sicurezza e questi luoghi tanto ampi poi ci aiutano tantissimo anche durante le celebrazioni a tenere quella che è la distanza, quindi sì sì, sono disciplinati Sono disciplinati, bene così, allora noi con Marianna ci vediamo sabato mattina sempre in diretta dalla chiesa di San Pio, però ovviamente c'è anche domani festa di San Giovanni venerdì sempre insieme a partire dalle 10.45, Maria Pia per noi è tutto Grazie ad Anna Maria, un saluto affettuoso e un grazie a Marianna Lops, avete visto il caldo certamente non ha obnubilato, non ha tolto nulla alle nostre interlocutrici contrariamente magari alla sottoscritta che invece il caldo lo soffre un pochino troppo ma adesso per fortuna devo soltanto dare la linea alla regia Sono le 11.28 minuti, siamo proprio a ridosso di uno dei tre momenti più importanti del nostro palinsesto quotidiano ovvero la celebrazione eucaristica tre volte sapete, potete partecipare alle 7.30, alle 11.30 e alle 18 ma ho il tempo ancora per qualche secondo di ricordare a tutti voi che siete già venuti pellegrini qui da Padre Pio che potete inviarci, anzi ci fa molto piacere se lo fate alcuni scatti, alcuni ricordi dei vostri pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo oppure a Pietrelcina naturalmente potrebbero essere scatti da parte di gruppi di pellegrini così come scatti più personali e familiari proprio come abbiamo già visto diverse volte in questo nostro tempo tempio d'estate che viviamo insieme a Pietrelcina